adesso voglio avviare per far più una tiro a lui unica eheh 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 lo recitiamo allora oggi è il oggi è il 12 12 gennaio 2013 ritorno al buri dopo tanto tempo possiamo un po' riprendere salutiamo gli unici eheh 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 è questa allora partita 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 un parziale vede in testa in maniera proprio stato storica Davide al momento consente ultima posizione fanciulla ora devo dire siamo quasi la eh allora no io intanto voglio sottolineare solo che ritorno al bullying mi fa molto piacere questa partita con questi due ragazzi dopo praticamente 2004 sono 6 7 anni eh 27 anni che io non giocavo a bullying quindi ho proprio gioia di fare questa partita però spero quantomeno di finirla dopo non a questi livelli e infatriamo solo al volo un attimo il allora abbiamo se capisce niente va bene ok mi auguro almeno uno strike lo esigo lo esigo lo esigo lo esigo uno strike giù è è è è